Allora, in questo momento in cui siete tutti concentrati vorrei dire che questa è la più bella puntata da quando è iniziato come vi parla, quindi grazie a tutti. Adesso speriamo che Scambe Cream, almeno il coronamento c'è tutto, sono scherzata, lo dico apposta perché ci insieme è molto simpatica. Allora, adesso vi dirò i nomi delle due concorrenti che passeranno il turno e giungeranno alla finalissima, a giocarsi primo e secondo posto. Quindi il nome che non dirò è quello del terzo classificato. L'ordine è come sempre rigorosamente sparso, io non ce l'ho nemmeno l'ordine, ho solo il nome del terzo classificato. Mi metto un po' di battito per favore, grazie. Voi stasera con le vostre mani e la vostra testa soprattutto avete deciso così, che a passare il turno e a ripresentarsi tra pochissimo, a giocarsi la finalissima di voi fattore al cubo, sarai proprio tu? NADA! Giacomo ha contribuito. Jessica e Serena si giocano un posto tra le prime due, all'altra riuscita. Tantissimi complimenti e un grande applauso per il terzo posto. Ma passa il turno, o meglio, passi il turno, proprio tu. Jessica! Vieni, Serena. Terza classificata, un grandissimo risultato di questa terza edizione, Serena Avanzia. La concorrente è dotata di maggior tecnica. Grazie. Ti chiedo di rimanere, un grande applauso da tutti, è veritatissimo, per dopo, che ci sarà la premiazione se puoi restare con noi, grazie. Bene, abbiamo avuto il primo in scontro, grazie.